Continua a correre la vastese verso il prossimo campionato. Nel weekend appena trascorso il suo delizio del patron Franco Bolami ha ufficializzato la permanenza dei difensori Cristian Iarocci ed Entoni Viscardi. Iarocci, vastese doc classe 99, ha giocato una stagione molto positiva mettendo a referto ben 25 presenze dimostrando di avere qualità importanti per crescere ancora. Viscardi è stato un pilastro della difesa bianco-rossa. Il crollo di rendimento nel ritorno dell'ultimo campionato della squadra di Colavitto è coinciso con l'infortunio dello stesso Viscardi che in 13 presenze aveva anche collezionato tre reti. Un'assenza che ha fatto saltare alcuni fondamentali equilibri di squadra. Sono due conferme e tra poco ne arriverà un'altra molto attesa, quella di un altro vastese doc Cristian Stivaletta che è appetito anche da altre squadre di Serie D ma sarà blindato dal patron Bolami. Un altro nome sul taccuino del DS Ruffini è l'attaccante Daniele Giampaolo, reduce da una buona stagione al San Nicolò. Il bomber Vito Leonetti è finito nell'orbita di squadre di Serie C tra cui il Teramo e allora il grande obiettivo resta Umberto Prisco e per lui si tratterebbe di un gratisissimo ritorno. Il giocatore da 15-20 gol per sognare in grande. Continuano ad esserci incogniti in altre piazze, intanto all'Aquila dove questa settimana sarà cruciale per arrivare alla composizione dei problemi societari senza passaggio di quote, senza la realizzazione del cosiddetto CDA misto non sarà possibile per il manager romano Gianluca Ius far partire il progetto tecnico nonostante il coinvolgimento del campione del mondo Bruno Conti. A San Nicolò ci sono ancora problemi dopo la mancata fusione con la Virtus Teramo. Il principale è quello del campo e il presidente Di Giovanni sta valutando anche le ipotesi di iscrivere la squadra in tornei inferiori, eccellenza o promozione, o portarla a giocare altrove mantenendola di ma con ambizioni ridimensionate. A Giulianova invece, dopo le dimissioni della scorsa settimana, potrebbe essere Nicola Dottavio la persona incaricata di costruire la nuova squadra. Direttore sportivo dell'Olimpia agnonese fino a un mese fa ora potrebbe ricoprire lo stesso ruolo a Giulianova, forte del fatto di essere stato il 3 d'union per l'avvicinamento di Peppe De Cecco al presidente Bartolini. A Avezzano fino a ieri sono state vendute 192 tessere da socio sostenitore, un buon risultato ma serve un ulteriore impulso per avere le risorse necessarie per tentare la domanda di ripescaggio.